Kassol Kassol Dovrai dubitare dell'impegno che hai preso con me? No, perché? Perché qui dicono che tornerai con la tua ex moglie Cosa? Guarda, pagina 6 Kassol abbraccia la ex moglie, suo editore No, 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 era un pranzo di lavoro, stavamo parlando di hit e storm Ah, quindi non la stavi guardando teneramente negli occhi? Aveva degli spinaci fra i denti, questo è... Ok, io lo... Questo perché non mi hai fatto annunciare il fidanzamento Ne abbiamo già parlato, le persone alle quali teniamo già lo sanno Sì, dato che io sono un personaggio pubblico, tu non vuoi esserlo, lo so Esatto Beh, basta che questo non sia un problema per te No, perché non è vero, ho solo più materiale per poterti torturare L'allieva diventa maestro Chi sarà alle 6.45 del mattino? Salve, mister C! Non l'ho svegliata No Stavo andando a lavoro e sono venuto per la mia lettera di raccomandazione Sì, per la domanda... per la borsa di studio Apprezzo molto quello che fa Ho detto ad Alexis che l'avevo finita, ma non è proprio così La sto ritoccando, voglio che venga una bella lettera Lei è un perfezionista, come me Beh, si prende il suo tempo Non troppo però La scadenza è stasera La finirò per pranzo Grazie, mister C È il migliore Lo so Salve! Ciao, P Arrivederci Non hai scritto una parola, vero? No Ma in mia difesa, che cosa dovrei scrivere? È P E perché ti sei offerto? Non l'ho fatto, me l'ha chiesto Alexis Non potevo dirle di no Ma basta con le scuse La scriverò in questo istante A meno che non ci sia un omicidio